Virginia Stavlum del Trentino Alto Adige e la nuova Miss Universe Italy 2022 è stata scelta nello show finale svolto sia a Canosa di Puglia, al secondo posto Alice d'Avanzo per il Friuli Venezia Giulia, terza Michela Russo per la Sicilia. La Stavlum si è così guadagnata il diritto a rappresentare il bel paese alla finale internazionale di Miss Universe in programma a gennaio 2023 in un paese ancora da definire dall'organizzazione mondiale. La serata della finale è stata inoltre impreziosita da momenti di musica, spettacolo e quadrimoda nata a Trento nel 1998 nel campo della moda vanta tante esperienze avendo già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona, forte e anche la sua presenza sui social con circa 380.000 followers su Instagram. Sono veramente felice, è un traguardo incredibile per me, sono felice perché ho lavorato veramente duramente in queste settimane con tutto il team, con i ragazzi e con le ragazze che mi hanno accompagnata in questa avventura. Eravamo insieme, si è creato un gruppo meraviglioso. Eravamo insieme. Cosa è un gruppo meraviglioso. Cosa è un gruppo innanzitoli. As motione un gruppo meraviglioso. E Mi piace. E I amptomarecaindoi.